Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ivrea e Banchette nella serata di martedì 7 gennaio hanno fermato e denunciato per danneggiamento a seguito d'incendio il piromane che il 4 gennaio scorso a Ivrea ha causato gli incendi di vampati a distanza di pochi minuti uno dall'altro all'interno delle chiese di San Maurizio e San Salvatore, distanti circa 300 metri nelle centralissime via Arduino e via Palestro. Le fiamme nella chiesa di San Maurizio hanno di sotto presepe un quadro, due tavole dipinte e la copertura della fonte battesimale e solo l'immediato intervento del parroco aiutato da alcuni fedeli e successivamente dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze più gravi. Nella chiesa di San Salvatore invece il piromane ha appiccato il fuoco al drappo di tessuto che ricopriva l'altare. Si tratta di una clocharda italiana di 46 anni. La donna è stata rintracciata dalle agenti del commissariato nei pressi dell'ospedale di Ivrea ed era stata riconosciuta grazie alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza. Infatti le telecamere hanno ripreso la piromane mentre appiccava le fiamme al drappo dell'altare. Al momento del rintraccio e dell'accompagnamento la persona denunciata indossava gli stessi abiti immortalati dalle telecamere.